Quando ero matto. Dalla decima raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Lisa Caputo. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Quando ero matto. Capitolo 1. Il soldino. Prima di tutto chiedo licenza di premettere che ora sono sabio. Oh per questo anche povero. Anche calvo. Quando ero ancora io voglio dire il riverito signor Fausto Bandini ricco e in capo avevo tutti i miei bellissimi capelli e però provato provatissimo che ero matto. È un po' più magro si intende ma pur con questi occhi che mi sono rimasti da allora spauriti nella faccia così tutta scritta dagli atteggiamenti che prendeva per le croniche pietà da cui ero afflitto. Per distrazione ogni tanto ci ricasco ma sono lampi che Marta saggia moglie spegne subito in me con certe sue terribili paroline. Per esempio l'altra sera. Cose di poco momento badiamo. Che può mai accadere a un povero savio? È savio povero ridotto a vivere più ordinatamente da una formica. Quanto più tenue la tela tanto più delicato il ricamo. Ho letto una volta non so dove ma prima di tutto bisognerebbe saper ricamare. Rincasavo. Non si può dare credo maggior fastidio di quello che l'insistenza ad un mendicante cagiona quando non abbia il soldo in tasca e quelli ci vede all'aria dispostissimi a darglielo. Era nel caso mio una ragazza. Senza interruzione con voce piagnucolosa da un quarto d'ora mandava ripetendo dietro le stesse frasi due o tre. Io sordo senza guardarla. A un certo punto mi lascia. Invece stessa appiccica come una mosca tavana a una coppia di sposi novelli. Glielo daranno il soldino dico tra me. Ah tu non sai ragazza. La prima volta che gli sposi novelli van per via a braccetto credono ad aver tutti gli occhi del mondo appuntati addosso. Sentono l'impaccio delle cose nuove che tutti quegli occhi veggono e suppongono in loro e non sanno né possono fermarsi a farle lemosina al povero. Sento poco dopo di fatti qualcuno che mi corre dietro gridando. Signorino! Signorino! E rieccola col piagnisteo monotono di prima. Non ne posso più. Le grido esasperato. No! Peggio. Come se con quel no avessi dato la stura a un altro paio di frasi tenute in serbo in previsione del caso. Sbuffo una prima volta. Sbuffo una seconda. Finalmente. Uff! Alzo il bastone. Così. Quella si tira da un canto levando istintivamente il braccio a riparo della testa e di sotto il gomito mi geme. Anche i due centesimi. Dio che occhi apriva quel volto smunto citrino sotto i capelli rossastri abbatuffolati. Tutti i vizi della strada vermicavano in quegli occhi e la precocità li rendeva spaventevoli. Non metto alcun punto esclamativo perché ora che son savio nessuna cosa deve più farmi meraviglia. Già prima di vederle quegli occhi ero pentito dell'atto di minaccia. Quanti anni hai? La ragazza mi guarda di traverso senza abbassare il braccio e non risponde. Perché non lavori? Magari a trovarne. Non trovo. Non cerchi le dico io riavviandomi perché hai preso gusto a codesto bel mestiere. Ma a dirlo con lei mi seguì ripigliando l'affliggente cantilena che aveva fame le dessi qualcosa per amor di dio. Potevo cavarmi la giacca e dirle tieni? Chiesa in altri tempi forse l'avrei fatto ma già in altri tempi avrei avuto in tasca il soldino. Mi nacque improvvisamente un'idea della quale sento il dovere di scusarmi al cospetto della gente savia. Lavorare è senza dubbio un buon consiglio ma si fa così presto a darlo. Mi sovvenne che Marta cercava una servetta. E si badi. Qualifico pazzia questi dei improvvisa non tanto per la trepida gioia che mi suscitò e che riconobbi in prima benissimo per averla altre volte provata dal quale quando ero matto. Specie d'ebbrezza barbagliante che dura un attimo un lampo nel quale il mondo sembra dia un gran palpito e sussulti tutto dentro di noi. Quanto per le riflessioni da povero savio con cui cercai subito di puntellare quelle ebrezze in me. Pensai purché a questa ragazza si dia da mangiare da dormire qualche veste smessa ci servirà senza pretendere altro. Sarà pure un risparmio per Marta. Così. Senti, disse alla ragazza, soldi non te ne do. Vuoi davvero lavorare? Si fermò a guardarmi un tratto con quegli occhi scontrosi sotto le ciglia odiosamente aggrottate. Poi chinò più volte il capo. Sì? Ebbene, vieni allora con me. Ti darò io da lavorare a casa mia. La ragazza si fermò di nuovo, perplessa. E mamma? Andrei a dirglielo dopo. Adesso vieni. Mi pareva di camminare per un altro viale e che, mi vergogno a dirlo, case e alberetti fossero in preda all'agitazione che provavo io. E l'agitazione crebbe, crebbe di punto in punto appressandomi a casa. Che avrebbe detto mia moglie? In un modo più balordo non avrei potuto presentarle la proposta. Balbettavo. E certo, certissimo, questo modo balordo dovette contribuire non solo a farli respingere, come era giusto, ma anche a farla arrabbiare, povera Marta. Ma se io, ora che sono divenuto savio, col timore continuo che mi scappi qualche stramberia, non so più dire due parole, una dopo l'altra. Basta. Mia moglie non si lasciò sfuggire l'occasione di ripetermi quel suo terribile ancora, ancora, che per me è peggio di una doccia sorpresa. Poi mandò via la ragazza senza neanche volerle dare qualcosina. Perché, disse, per quel giorno l'elemosina era fatta. E realmente Marta l'elemosina la fa ogni giorno. Badiamo. Dà un soldino al primo povero che capita e quando ha dato quel soldino e ha detto raccomandami alle anime sante del purgatorio, si è messa in pace con la coscienza e non vuol sentire altro. Intanto io penso e dico, quella ragazza, se non è già perduta, certo sarà tra breve. Sì, ma che deve importarmene? Io, ora, sono divenuto savio e a queste cose non debbo più pensare né punto né poco. Pensare a me. Questa, la mia nuova divisa. Ce n'è voluto per persuadermi a intestarne tutti gli atti di questa mia nuova vita, chiamiamola così. Ma come Dio vuole, non facendo nulla. Basta. Se io ora, per modo d'esempio, mi fermo sotto la finestra di una casa dove sappia c'è gente che piange, debbo subito vedere a quella finestra la mia smarrita, sparuta immagine, la quale, affacciandosi, ha l'obbligo espresso di gridarmi di lassù, crollando un po' il capo e appuntandosi l'indice di una mano sul petto. E io? Così. Sempre. E io? In ogni occasione. Che è qui la base della vera saggezza. Quando ero matto, invece. Capitolo 2. Fondamento della morale. Quando ero matto, non mi sentivo in me stesso. Che è come dire, non stavo di casa in me. Ero infatti divenuto un albergo aperto a tutti. E se mi picchiavo un po' sulla fronte, sentivo che vi stava sempre gente alloggiata, poveretti che avevano bisogno del mio aiuto. E tanti e tanti altri inquilini avevo parimenti nel cuore. Né si può dire che gambe e mani avessi tanto al servizio mio, quanto a quello degli infelici che stavano in me e mi mandavano di qua e di là in continua briga per loro. Non potevo dire io, nella mia coscienza, che subito un eco non mi ripetesse io, 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 da parte di tanti altri, come se avessi dentro un passeraio. E questo significava che se, poniamo, avevo fame e lo dicevo dentro di me, tanti e tanti mi ripetevano dentro per conto loro, ho fame, ho fame, ho fame, a cui bisognava provvedere. E sempre mi restava il rammarico di non potere per tutti. Mi concepivo insomma in società di mutuo soccorso con l'universo. Ma siccome io allora non avevo bisogno di nessuno, quel mutuo aveva soltanto valore per gli altri. Il bello intanto era questo, che credevo di ragionare la mia pazzia. Anzi, se debbo dir tutta la verità senza vergognarmi, ero fin anche arrivato a tracciare lo schema ad un trattato sui generis, che intendevo scrivere col titolo Fondamento della Morale. Ho qui nel cassetto gli appunti per questo trattato, e ogni tanto, di sera, mentre Marta si fa di là il solito pisolino dopo cena, li cavo fuori e me li rileggo pian piano, di nascosto, con un certo godimento e anche una certa meraviglia, lo confesso, perché è innegabile che io ragionavo pur bene quando ero matto. Dovrei veramente riderne. Ma forse non ci riesco per il motivo affatto particolare che quei ragionamenti erano per la maggior parte diretti a convertire quella disgraziata, che fu la mia prima moglie, della quale parlerò appresso, per dare la più lampante prova delle segnalate pazzie di quei tempi. Da questi appunti argomento che il trattato del fondamento della morale dovesse nel mio concetto consistere di dialoghi tra me e quella mia prima moglie, o forse ed apologhi. Un quadernetto, ad esempio, è intitolato Il giovine timido, e certo in esso alludeva quel buon ragazzo, figlio di un mercante di campagne e relazioni d'affari con me, il quale, mandato dal padre, veniva a trovarmi in città, e quella disgraziata lo invitava a desinare con noi per divertirsi un po' alle spalle di lui. Trascrivo dal quadernetto, dimmi, o Mirina, o che occhi sono i tuoi? Non vedi che codesto povero giovine si è accorto che tu intendi prenderti giuoco di lui? Lo stimi sciocco, e invece è soltanto timido, così timido che non sa ritirarsi dalla berlina a cui lo metti, quantunque ne soffra dentro. Se la sofferenza di questo giovine, o Mirina, non rimanesse per te allo stato di segno apparente che ti fa ridere, se tu non avessi soltanto coscienza del tuo tristo piacere, ma anche, nello stesso tempo, del dolore di lui, non ti par chiaro che cesseresti di farlo soffrire, perché il piacere ti sarebbe turbato e distrutto dalla coscienza dell'altrui dolore? Tu agisci dunque, Mirina, senza l'intero sentimento della tua azione, della quale provi l'effetto soltanto in te medesima. Così, e per un matto, via, non c'è male. Il male era che non comprendevo che altro è ragionare, altro è vivere. E la metà o quasi di quei disgraziati che si tengono chiusi negli ospizi, non sono forse gente che voleva vivere secondo quanto comunemente in astratto si ragiona? Quante prove, quanti esempi potrei qui citare se ogni savio oggi non riconoscesse tante cose che si fanno nella vita o che si dicono e certi usi e certe abitudini essere proprio irragionevoli, di modo che è matto chi li ragioni. Tale in fondo ero io, tale nel mio trattato mi dimostravo, non me ne sarei accorto se Marta non mi avesse prestato i suoi occhiali. Per curiosità, intanto, coloro che non si vogliono tenere paghi di Dio, perché lo dicono fondato in un sentimento che non ammette ragione, potrebbero vedere in questo mio trattato come io però lo ragionassi. Se non che, convengo adesso che questo sarebbe un Dio difficile per la gente savia e anzi addirittura impraticabile, perché chi volesse riconoscerlo dovrebbe agire verso gli altri come agivo io una volta, cioè da matto, con uguale coscienza di sé e degli altri, perché sono coscienze come la nostra. Chi facesse veramente così e alle altre coscienze attribuisse l'identica realtà che alla propria avrebbe per necessità l'idea di una realtà comune a tutti, d'una verità e anche di un'esistenza che ci sorpassa. Dio. Ma non per la gente savia, ripeto. È curioso intanto che Marta, mentre io, seguendo la nostra vecchia abitudine di leggere qualche buon libro prima di andare a letto, leggo, per esempio, i Fioretti di San Francesco, mi interrompa di tratto in tratto esclamando con riverenza e piena d'ammirazione, che santo, che santo, così. Sarà tentazione del demonio, ma io abbasso il libro sulle ginocchia e sto a guardarla, se lo dica proprio sul serio davanti a me. Per essere logici, via, San Francesco per lei non dovrebbe essere savio, e io ora. Ma già mi persuado che i savi debbono essere logici fino a un certo punto. Torniamo a quando ero matto. Sul cadere della sera, in villa, mentre da lontano mi giungeva il suono delle cornamuse che aprivano la marcia delle frotte dei falciatori di ritorno al villaggio, con le carrette cariche del raccolto, mi pareva che l'aria, tra me e le cose intorno, divenisse a mano a mano più intima, e che io vedessi oltre la vista naturale. L'anima, intente e affascinata da quella sacra intimità con le cose, discendeva a limitare dei sensi e percepiva ogni più lieve moto, ogni più lieve rumore, e un gran silenzio attonito era dentro di me, sicché un frullo d'ali vicino mi faceva sussultare, e un trillo lontano mi dava quasi un singulto di gioia, perché mi sentivo felice per gli uccelletti che in quella stagione non pativano il freddo, e trovavano per la campagna da cibarsi in abbondanza. Felice, come se il mio alito li scaldasse, e io li cibassi di me. Penetravo anche nella vita delle piante, e man mano dal sassolino, dal fil d'erba, assorgevo, accogliendo e sentendo in me la vita ad ogni cosa, finché mi pareva di divenir quasi il mondo, che gli alberi fossero le mie membra, e la terra fosse il mio corpo, e i fiumi, le mie vene, e l'aria la mia anima, e andavo un tratto così, estatico e compenetrato in questa divina visione. Svanita, restavo anelante, come se davvero nel gracile petto avessi accolto la vita del mondo. Mi mettevo a sedere a piedi un albero, e allora il genio della mia follia cominciava a suggerirmi le più strambe idee. Che l'umanità avesse bisogno di me, della mia parola esortatrice, voce d'esempio, parola di fatto. A un certo punto mi accorgevo io stesso che deliravo, e allora mi dicevo, rientriamo, rientriamo nella nostra coscienza. Ma ci rientravo, non per veder me, ma per vederli altri in me come essi si vedevano, per sentirli in me come essi in loro si sentivano, e volerli come essi si volevano. Ora, concependo e riflettendo così, nello specchio interiore della coscienza, gli altri esseri con una realtà uguale alla mia, e per tal mezzo anche l'essere nella sua unità, un'azione egoistica, un'azione cioè nella quale la parte si erige al posto del tutto e lo subordina, non era naturale che mi apparisse ragionevole. Ahimè, sì! Ma mentre io per le mie terre camminavo in punta di piedi e curvo per vedere di non calpestare qualche fiorellino o qualche insetto, dei quali vivevo in me la tenue vita ad un giorno, gli altri mi rubavano la campagna, mi rubavano le case, mi spogliavano addirittura. E ora, eccomi qua. Ecce omo. Capitolo 3 Mirina Il cero benedetto, il cero della buona morte, che quella santa donna si era portato dalla chiesa madre del paesello natale, faceva ora il suo ufficio. Lo aveva custodito tant'anni per sé in fondo all'armadio, e ora esso ardeva su un lungo candeliere di piombo e quasi vegliava coi ricordi umili e cari del lontano paese, struggendosi in lacrime sul fusto, dietro il capo della morta, già stesa sul pavimento dentro la bara ancora scoperta, nel posto occupato prima dal letto. Ogni qualvolta mi viene in mente la mia prima moglie, mi s'affaccia con straordinaria lucidità questa funebre visione. La santa donna stese in quella bara è Amalia Sanni, la sorella maggiore, e vorrei dire la madre di Mirina. Rivedo la camera modestissima, e oltre al cero benedetto, due altri ceri più piccoli che si consumano più presto a piede nella bara, crepitando di tratto in tratto. Io me ne sto seduto presso la finestra, e come se la sciagura in attesa mi avesse più stordito che addolorato, guardo i parenti e gli amici convenuti per quella morte. Gente savia è da bene, mi guarderei dal negarlo, ma che peccava di troppo zelo nel farmi accorgere dell'antipatia che sentivano per me. Certo, ne avevano ragione, ma non mi aiutavano così a rinsavire, che io anzi, da quei loro sguardi, traevo argomento di compatirli sinceramente. Io amavo Amalia Sanni come una sorella, riconosco ora in lei un solo torto, questo, che la sua anima s'accordava in tutto e per tutto con la mia nel concepir la vita. Non direi però che ella era matta, direi tutt'al più che Amalia Sanni non fu savia come San Francesco, perché non c'è via di mezzo, o si è santi o si è matti. Con cura tutte e due ci sforzavamo di ridestare l'anima in mirina, senza pertanto sciupare la freschezza della sua sconnessa e quasi violenta vitalità, senza mortificare per nulla quel suo minuscolo corpicino da bambola, pieno di vivacissime grazie. Volevamo insegnare a una farfalla, non a chiudere le ali e non volar più, ma a non andare a posarsi su certi fiori velenosi. Senza intendere che per la farfalla quel che a noi pareva veleno era il proprio cibo. Basta, non voglio qui dilungarmi a narrare la mia infelice esistenza coniugale con mirina. Dirò solo che ella detestava in me quel che ammirava in sua sorella, e questo ora mi sembra naturalissimo. A un tratto, nella camera mortuaria entrò sbuffante una delle cugine di mia moglie, di cui non ricordo più il nome. Pingue, Nana, con un grosso paio d'occhiali rotondi che le ingrandivano mostruosamente gli occhi, poverina. Si era recata all'aperto a raccogliere qua e là quanti più fiori aveva potuto nelle vicinanze della villetta, e ora veniva a spargerli sulla morta. Aveva nei capelli scompigliati il vento che urlava fuori. Gentile e pietoso quel pensiero. Ora lo riconosco. Ma allora? Ricordavo che pochi giorni addietro Amalia, nel vedere mirina ritornare alla villetta con un gran fascio di fiori, aveva sclamato, tutta afflitta, peccato! Perché? Nella sua santità, di fatti, ella riteneva che quei fiori di campo non nascono per gli uomini, ma sono come il riso della terra che esprime gratitudine al sole per il calore che esso le dà. Strappare quei fiori era per lei una profanazione. Io, matto, confesso che non seppi resistere alla vista della morta coperta di quei fiori. Non dissi nulla. Me ne andai. Ricordo ancora l'impressione che mi fece, quella notte, l'improvviso spettacolo della natura quasi tutta in fuga, nell'urlante vemenza del vento. Fuggivano squarciate pel cielo, con disperata furia, le nuvole, a schiera infinita, e pareva si trascinassero seco la luna pallida dallo sgomento. Gli alberi si scontorcevano stormendo, cicolando, spasimando senza requie, come per sradicarsi e fuggire pur là, pur là dove il vento portava le nuvole, a un tempestoso convegno. L'anima mia, che nell'uscir dalla villetta era tutta chiusa nel cordoglio della morte, a un tratto si aprì, come se il cordoglio stesso si fosse spalancato al cospetto di quella notte. Altro dolore immenso mi parve che fosse nel cielo misterioso, in quelle nuvole squarciate e trascinate. Altra pena arcana, nell'aria infuriata e urlante in quella fuga. E, se così gli alberi muti si agitavano, anche uno spasimo ignoto doveva certo essere in loro. A un tratto un singhiozzo, quasi un bollo di paurosa luce in quel mare di tenebre, un chiurlo d'assiolo nella valle giù, e lontano gridi di terrore, i grilli che scampanellavano di là, verso la collina. In vestito dal vento, andai tra gli alberi. A un certo punto, non so perché, mi voltai a guardare verso la villetta, che mi presentava all'altro lato. Dopo aver guardato un pezzo, improvvisamente mi protesi per discernere tra il buio se quel che mi sembrava di vedere fosse vero. Presso la finestra bassa della camera in cui Mirina si era ritirata a piangere la sorella, stava e si agitava come un'ombra. Poteva essere negli occhi miei quell'ombra. Me li stropicciai così forte che per un attimo, dopo, non riuscii a discernere più nulla, quasi che una tenebra più fitta fosse caduta attorno per impedirmi, non di vedere, ma di credere a ciò che mi era parso di vedere. Un'ombra che gestiva, l'ombra di un albero agitato dal vento. Tanto era lontano da me il sospetto che mia moglie mi tradisse. Veramente, mi sembra di non presumer troppo pensando che, in una notte come quella, sarebbe stato lontano da tutti un tal sospetto, e che forse tutti, come me, quando mi accorsi che quell'ombra era proprio un uomo in carne e ossa, avrebbero ritenuto che fosse un ladro notturno, e come me sarebbero corsi di suo piatto a prendere uno schioppo per intimorirlo, anche sparando in aria. Se non che io, quando scoprì che genere di ladro fosse colui, non gli sparai, né sparai in aria. Appostato lì, chino, all'angolo della cascina, vicinissimo alla prima finestra donde essi parlavano tra loro, in preda a continui brividi taglienti come rasoiata alla schiena, mi sforzavo di udire ciò che dicevano. Udivo soltanto mia moglie atterrita dall'incredibile audacia di colui. Lo spingeva ad andarsene. Parlava anche lui, ma così basso e affrettatamente che non solo non riusciva a intendere le sue parole, ma dal suono della voce non poteva ancora riconoscerlo. «Vattene, vattene!» insisteva lei, e tra le lacrime aggiunse altre parole che mi impietrarono di più. Intravidi tutto. Egli era venuto in quella notte tempestosa per chiedere notizie dell'inferma, ed ella gli disse «L'abbiamo uccisa noi!» Ah, dunque Amalia aveva saputo, aveva scoperto prima di me il tradimento. «Che colpa! Che colpa no!» disse egli forte, smagnoso, a un tratto. «Vardi! Lui! Cesare Vardi! Il mio vicino!» Lo riconobbi, lo vidi nella sua voce. Tozzo e solido, quasi nutrito di terra, di sole e d'aria sana. Udì, subito dopo, le bersiane raccostarsi con violenza, come se il vento avesse aiutato le mani di lei. Udì che egli si allontanava, e io non mi mossi dalla positura in cui mi ero messo. Seguì con l'udito, rattenendo il fiato, i suoi passi, più lenti assai dai battiti del mio cuore. Poi mi rialzai in preda al primo sbalordimento, e allora quel che avevo veduto e inteso quasi non mi parve più vero. «Possibile! Possibile!» dicevo a me stesso, errando di nuovo per la campagna, tra gli alberi, come ebro. M'usciva dalla gola un mugolio sordo, continuo, che si confondeva col violento stormire delle foglie, come se il mio corpo, ferito, si dolesse per suo conto, mentre l'anima, sconvolta, stupita, non gli badava. «Possibile!» Intesi alla fine quel mugolo che partiva da me, e mi arrestai arrangolato, e mi afferrai forte con l'una mano e con l'altra agli omeri, incrociando le braccia sul petto, quasi per trattenermi, e sedetti a terra. Ruppi allora in singhiozzi disperati, piansi e piansi, poi spossato, alleggerito, cominciai a esortar me stesso. «Ma dirò solo quello che feci, dopo aver pensato a lungo. Sarà meglio. Ormai sono passati tanti anni. Commuovermi ancora di questa mia vecchia sciagura, temo non sia degno di un uomo savio. Tanto più che, pare, anzi, è certo, mi diportai malissimo. Levatomi dunque da terra, mi misierrar di nuovo. A un tratto mi sentii quasi forzato a nascondermi ancora una volta, e mi accoccolai dietro la siepe che limitava il mio campo da quello di lui. Il Vardi ritornava lentamente alla sua villa. Nel passare davanti a me, nascosto dalla siepe, lo sentii sospirare profondamente nella notte. Quel sospiro me lo avvicinò tanto che quasi ne provai ribrezzo. «Ah, per quel sospiro, fui proprio sul punto di ucciderlo. Potevo, solo che avessi alzato un po' il fucile, anche senza darmi la pena di prendere la mira. Tanto vicino mi passava. Lo lasciai passare. Ritornato di corsa alla villetta, trovai che i parenti si erano ritirati dalla camera della morta, e che soltanto due servi erano rimasti a vegliare. Li dispensai dal tristufficio, dicendo che avrei vegliato io. Mi tratteni un po' a contemplare mia cognata, che mi sembrò più tranquilla, più serena, come se, morta dentro l'ombra della colpa di cui aveva voluto serbare l'orrendo segreto, ora ne fosse uscita, poiché io sapevo tutto. Entrai quindi nella camera di Mirina. La trovai che piangeva. Appena mi vide, si cangiò in volto. «Non temere», le dissi. «Vieni con me». «Dove?» «Con me. Non avrai più rimorsi». «Che intendi dire?» «Io voglio fare, non dire. È quello che vuoi tu. Vieni intanto, ti farò vedere». La presi per mano. La attirai. Tremante, fremente, ella si lasciò trascinare fino alla camera della morta. Le additei la sorella. «Vedi», le dissi. «Ora ella ti perdona, e tu puoi ripetere a me che l'hai uccisa tu». «Io?» «Sì, come hai detto poc'anzi dalla finestra a lui». «Zitta, non gridare. Non ti fa nulla. Andrai ora stesso via da questa casa». «Non piangere. È la tua prigione. Voglio liberarti». Cadde in ginocchio, con la faccia per terra, supplicando perdono, pietà. L'aiutai subito a rialzarsi, imponendole di far silenzio. La tirai fuori della stanza. «Dove? Dove?» chiedeva lei angosciosamente. «Dove tu vuoi. Non temere. E se vuoi essere punita, sarà punizione. E se puoi ancora godere, godrai liberamente». «Ti libero. Ti libero!» Avevo ancora lo schioppo in spalla. «Ah, come ella me lo guardò, sospettando ragionevolmente che con le buone volessi attirarla fuori». «Me ne accorsi», sorrisi amaramente, e corsi a posar l'arma in un angolo della saletta. «Non voglio farti male, no? Che dovere hai tu da amarmi per forza?» «Dove mi conduci?» «Da lui che t'aspetta». Entrando in una casa, pensavo io allora, dobbiamo contentarci della sedia che l'ospite può offrirci, senza stare a pensare se dall'albero donde quella sedia fu tratta, altra sedia di miglior foggia e di maggior dimensione avremmo tratta noi per il nostro gusto e per la nostra statura. Per Mirina erano troppo alte le sedie di casa mia. Sedendo, restava con le gambe spensolate, ed ella voleva sentire sotto i piedi la terra. Ma avevo promesso di riferire soltanto quello che feci. «Bene, passi questo breve saggio di pazzia. Quanto sarebbe stato più spiccio tirare una fucilata?» «Mah!» La tenevo per mano, all'aperto, e le parlavo, andando. Non so bene quel che le dicessi. So che, a un certo punto, ella svincolò il polso dalla mia mano e scappò via di corsa, di corsa tra gli alberi, come portata dal vento. Io rimasi perplesso, sorpreso da quella fuga improvvisa. Pareva che ella mi seguisse così docile. Chiamai come un cieco. «Mirina! Mirina!» Era sparita nella tenebra, tra gli alberi. Errai in cerca, a lungo, in vano. Ruppe l'alba, cercai ancora, finché ogni dubbio non fu vinto dalla certezza che ella era andata da sola a rifugiarsi là, dove io, senza alcuna violenza, volevo condurla. Guardai il cielo velato da strisce rade, che erano come la traccia supersite della gran fuga delle nuvole nella notte, e mi sentii stordito in mezzo a un silenzio nuovo, inatteso, con l'impressione vaga che qualcosa fosse venuto a mancare tutt'intorno, alla terra. Ah sì, ecco, il vento. Il vento era abbattuto. Gli alberi erano immobili nell'umida squallida luce di quell'alba. Quanta stanchezza in quella stupefatta immobilità. Ero sfinito anch'io, e mi posi a sedere per terra. Guardai le foglie degli alberi più vicini, e sentii che, se un soffio d'aria in quel momento fosse venuto a smuoverle, esse avrebbero forse provato lo stesso senso di dolore che avrei provato io se qualcuno fosse venuto a scuotermi una mano. Mi sovvenne a un tratto che la morte era sola nella villetta, che c'erano i parenti, i quali forse a quell'ora si erano svegliati e domandavano di me e di mia moglie. Balzai in piedi e vi è di corsa. Stimo è inutile rappresentare a gente savia quel che seguì. Quei bravi parenti insorsero tutti alle parole mie, alle mie spiegazioni. Mi proclamarono pazzo, e anzi quella cugina pingue, nana, dagli occhiali rotondi, mentre tutti vociavano, trasse dalla concitazione generale il coraggio di strillarmi in faccia con le pugna serrate. Imbecille! Aveva ragione, poverina. Affrettarono il trasporto della defunta alla chiesa del prossimo villaggio e mi lasciarono solo. Dopo due anni mi rivedo in viaggio. Il Vardia ha abbandonato Mirina, la quale, sottratta alla miseria, al vizio, alla disperazione, vive in casa di una parente. Ella è però in potere d'un male orribile, e sta per morirne. Col mio perdono, con la pace, io ho sperato, sognato di allegrarle gli ultimi giorni di vita, riconducendola alla nostra campagna. Mi presento a lei in quella camera squallida, le dico, mi comprendi ora? No, mi risponde lei, ritirando la mano che voglio carezzarle e guardandomi odiosamente. E anche lei, poveretta, aveva ragione. Capitolo 4. Scuola di saggezza. Per esercitar bene qualunque professione c'è bisogno, come ognun sa, anche di una certa larghezza di mezzi, la quale renda possibile aspettare le opportunità migliori, senza buttarsi alle prime, come cani all'osso, che è la sorte di chi si trova in ristrettezze e per l'oggi debba ammiserire il proprio domani e se stesso e la professione sua. Ora, questo vale anche per la professione del ladro. Un povero ladro che debba vivere alla giornata suol finire sempre male. Un ladro invece, che non sia in tali angusti e possa e sappia aspettare tempo e preparare i modi, arriva ad alti e onoratissimi posti, con plauso e soddisfazione di tutti. Siamo dunque parchi, per carità, nell'accordare il merito della saggezza ai ladri di casa mia. Tutti quelli che esercitarono sulla mia cospicua ricchezza la loro professione non meritano l'encomio della gente savia. Potevano rubare con garbo, comodamente e con prudenza e avvedutezza e crearsi un'onorevole e rispettabilissima posizione. Invece, proprio senza alcun bisogno, si affollarono a rubare e rubarono male, naturalmente. Riducendomi in pochi anni alla miseria, si tolsero il modo di vivere tranquillamente alle mie spalle. E cominciarono presto, infatti, per loro, tanti grattacapi che prima non avevano. E so, e me ne dispiace, che qualcuno andò anche a finir male. Marta, mia moglie, è d'accordo con me in questo giudizio. Soltanto ella osserva che allora quando un povero uomo discretamente onesto si trova insieme con tanti ladri ingordi nell'amministrazione dei beni di un ricco imbecille o matto, che sarei io, la tattica della parsimonia nel furto non è la più saggia. Il furto discreto, pacifico, giornaliero non è più segno allora da vedutezza, ma di stupidaggine e di povero cuore. E questo sarebbe appunto il caso di Santi Benzai, il mio segretario e primo marito della mia cara Marta. Il povero Santi, a cui devo se ora non son ridotto all'elemosina, conosceva la mia ricchezza e stimava saggiamente che essa avrebbe potuto servire con larghezza per me e per quanti, come lui, si fossero contentati di raschiarla discretamente, comodamente, senza cagionare danni troppo evidenti. Forse non tralasciò di consigliare, per comune interesse, moderazione ai suoi colleghi. Non fu certo ascoltato, si creò nemici e sofferse non poco, poverino. Gli altri seguitarono a portar via a balle e a carra, lui come una sobria formichetta, e quando io alla fine rimasi povero come Santo Giobbe, bisognava vedere il buon Santi molto, ma molto più afflitto di me. Egli aveva raggranellato di che vivere modestamente e non si sapeva dar pace che quegli altri non si fossero degnati neppure di lasciarmi nella sua condizione. Carnefici, esclamava, lui che mi aveva tratto sangue, a malapena, zitto zitto, con uno spillo. E più di una volta, vedendomi un po' troppo pallido, volle trascinarmi per forza in casa sua a desinare, e lui non mangiava dalla bile che lo rendeva furibondo contro quegli altri. Io stavo zitto e ascoltavo Marta che fin da allora cominciò a darmi scuola di saggezza. Ella difendeva contro il marito e i miei carnefici. Siamo giusti, diceva, con qual diritto possiamo pretendere che gli altri si curino di noi quando noi continuamente dimostriamo di non aver nessuna cura di noi stessi. La roba del signor Fausto era roba di tutti e ciascuno se l'è presa. Non è tanto ladro il ladro quanto, scusi signor Bandini, quanto è imbecille chi si lascia rubare. E qualche altra volta diceva come infastidita, è zitto via, santi, imita il signor Bandini che almeno se ne sta zitto, perché sa bene ora che non può allagnarsi di nessuno. Se egli infatti, senza che gli spettasse, pensò sempre agli altri, che meraviglia che questi altri abbiano pensato a sé. Ha dato lui l'esempio e gli altri lo hanno seguito. Per me il signor Bandini è stato il più gran ladro di se stesso. E dunque, in prigione, le domandavo io sorridendo. In prigione no, ma in qualche altro spizio sì. Santi si ribellava. Il diverbio si accendeva in vano, io tentavo di mettere pace dichiarando che, alla fin fine, quei tali il più gran male non lo avevano fatto a me, che sapeva adattarmi a vivere comunque, ma alla povera gente, che aveva bisogno del mio aiuto. E lei dunque, ribatteva Marta, non ha fatto male soltanto a sé, ma anche agli altri. Ne conviene. Non pensando a sé, non ha pensato neanche agli altri. Doppio male. E non esegue che tutti coloro che pensano soltanto a sé e fanno in modo di non aver mai bisogno di alcuno, per questo soltanto, dimostrano di pensare anche agli altri. Che farà lei adesso? Ha bisogno degli altri ora. E crede che sarà per tutti un beneficio il dover mostrarsi grati? Oh, che ti scappa di bocca, pettegola, scattava Santi a queste parole, temendo non mi pare essere un raffaccio di quel po' d'aiuto che egli con tutto il cuore mi prestava. Marta, placida e commiserandolo con lo sguardo, gli rispondeva. Non dico per te. Che c'entri tu, Santi mio, che sei un povero uomo da bene? E veramente. Se lo avessi lasciato fare secondo il suo affetto e la considerazione sua, mi sarei ridotta a vivere giorno e notte con lui. Non mi voleva lasciare un sol momento, e mi chiedeva per grazia che io fossi contento di accettare i suoi servizi doverosi. Povero Santi. Ma, con la povertà, i fumi della follia non m'erano per anche svaporati. Non volevo essere di peso a nessuno dei miei antichi beneficati, e con garbo compassionevole mi portava a spasso i miei cenci e la mia miseria, e intanto cercavo di procacciarmi un lavoro qualsifosse, anche manuale, che mi desse modo di soddisfare i miei pochi bisogni. Ma neppure questo garbava alla mia saggia maestra. Lavorare, mi diceva. Bell'espediente! Lei non era nato per questo, e ora toglierà, senza volerlo, il posto a un poveretto che forse si sarà incamminato per la via di quell'impiego che le va cercando. Mi voleva dunque morto, la buona amica. Quel suo ragionamento mi colpì, e non volendo togliere il posto a nessuno, me ne andai lontano, a chiedere ricetto a una famiglia di contadini, già miei dipendenti, ai quali di notte, in cambio, guardavo nel bosco la carbonaia, con la scusa che non riuscivo mai a prender sonno. Là, dopo alcuni mesi, mi giunse la notizia che il povero Santi Benzai era morto di un colpo. Lo piansi come un fratello. Dopo circa un anno, la vedo amando a cercare di me. M'ero ridotto così male che non volevo assolutamente presentarmi a lei. Ora Marta non vuol dare a sé il merito di avermi salvato, ma se è vero che il buon Santi lasciò nel testamento una calda raccomandazione per me alla moglie, è anche vero che ella poteva non tenerne conto. No, no, mi ripete lei, ringrazia Santi, buonanima, che ebbe almeno l'accortezza di mettere da parte questo poco denaro che era tuo per la nostra vecchiaia. Vedi, quello che tu non sapesti fare lo fece lui per te. Peccato che gli mancasse il coraggio, poverino. E così io ora, savio, godo il frutto, scarso, della più savia tra le virtù, la previdenza d'un mio povero ladro riconoscente da bene. Fine della novella Quando ero matto. Registrazione di Lisa Caputo. Palermo.